benvenuti sul canale viva il papa e il rinnovamento siamo giunti oggi al nono e ultimo giorno della novena alla medaglia miracolosa un momento culminante per affidare con piena fiducia alle nostre intenzioni alla vergine maria ringraziamo maria per il suo amore e la sua protezione e preghiamo affinché continui a guidarci verso suo figlio gesù nostro salvatore vi ricordiamo che domani 27 novembre giorno della festa della medaglia miracolosa reciteremo insieme la supplica alla medaglia miracolosa alle ore 17 vi invitiamo a unirvi a noi per continuare questo cammino di preghiera raccogliamoci in preghiera invocando lo spirito santo affinché riempia i nostri cuori di fede e speranza nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordi bagna ciò che è arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen con gratitudine e fede iniziamo insieme il nono giorno della novena alla medaglia miracolosa o vergine immacolata della medaglia miracolosa che mossa a pietà dalle nostre miserie scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto di adoperi per stornare da noi i castighi di dio e impetrarci le sue grazie muoviti a pietà della presente nostra necessità consola la nostra afflizione e concedici la grazia che ti domandiamo salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o vergine immacolata della medaglia miracolosa che quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono ci hai portato la tua medaglia affinché fosse difesa delle anime medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o vergine immacolata della medaglia miracolosa tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata ebbene o madre ecco che noi pieni di fiducia nella tua parola ricorriamo a te e ti domandiamo per la tua immacolata concezione la grazia di cui abbiamo bisogno salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te Grazie a tutti Grazie a tutti Amen Grazie di cuore per aver partecipato E che Maria ci accompagni sempre